Un camper per lo svolgimento delle operazioni postali a Buonabitacolo. La struttura che per anni ha ospitato l'ufficio postale di Buonabitacolo di proprietà comunale pare non sia più agibile a causa di danni alla pavimentazione che lo rendono poco sicuro. Un danneggiamento che si ipotizza possa essere stato generato da problemi di natura geologica che hanno reso poco sicuro il locale adibito ad ufficio postale. Poste Italiane è dovuto quindi correre ai ripari con altri mezzi per poter continuare a fornire il suo servizio ai tanti cittadini buonabitacolesi e che non sempre riescono a spostarsi per poter usufruire dei servizi postali. Ecco quindi che nei giorni scorsi per mantenere attivo lo sportello di Buonabitacolo di poste italiane è apparso nello spazio antistante l'ufficio un camper fornito direttamente dall'agenzia postale con un addetto che si occupa di effettuare alcune operazioni quali ad esempio il pagamento delle pensioni. Secondo quanto emerge però presso il camper postale gli addetti non hanno la possibilità di svolgere tutte le operazioni come vengono invece poste in essere in un locale posto all'interno di un edificio molto più funzionale. Per l'espletamento quindi di alcune operazioni buonabitacolesi sono costretti a spostarsi verso un altro ufficio postale come ad esempio gli uffici di Montesano Scalo, Sanza o Padula. La situazione che pare vada avanti da diverso tempo sta ora però generando esasperazione tra i cittadini con alcuni di loro che stanno ipotizzando di attivare una petizione per chiedere a poste italiane di individuare una soluzione più idonea al disagio. Altri cittadini invece temono che quanto sta accadendo e il disagio dovuto all'assenza di un locale dove poter ospitare l'ufficio postale possa portare poste italiane a valutare la chiusura dello stesso ufficio privando così i buonabitacolesi di un servizio fondamentale per la comunità.